Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a Caccia di Dividendi. Continuiamo a recuperare gli arretrati e oggi andiamo ad analizzare il portafoglio di Lorenzo. Non sono io, si tratta di un nostro amico follower omonimo e vediamo un pochino che cosa ci va a dire e poi andremo a vedere il suo portafoglio. Chiaramente lo dico sempre, poi l'analisi è molto personale, ognuno ha il proprio punto di vista. Io espongo il mio, non si tratta di consigli di investimento o consigli di disinvestimento, spero però che le opinioni che salteranno fuori siano comunque apprezzate e magari oggetto di ulteriori approfondimenti personali. Nell'email mi dice Ciao Lorenzo, il mio obiettivo è sempre stato l'acquisto della prima casa. Una volta fatto ho risparmiato per affrontare eventuali imprevisti fino a domandarmi cosa fare con tutto il risparmio accumulato. Avere un fondo d'emergenza è una cosa saggia, ma ero andato davvero oltre. Ho iniziato quindi a documentarmi, ho ascoltato spesso i tuoi video mentre andavo al lavoro e ho deciso di leggere il libro di Benjamin Graham, l'investitore intelligente per combattere la mia ignoranza finanziaria. Lettura assolutamente consigliata, per certi versi un pochino lontana dai tempi odierni, ma per tanti versi sempre attuali, io sinceramente la consiglio. Mi dà poi altre informazioni sparse, quindi partiamo dal presupposto, l'obiettivo di comprare la prima casa è stato raggiunto, ha creato un fondo di emergenza, sta risparmiando e non sapeva bene Lorenzo come andare a investire. Ha iniziato però a investire. È un ragazzo di 40 anni, il ragazzo lo scrive fra virgolette, io dico assolutamente sì, visto che io ne ho 45 e mi ci metto dentro anch'io tra i ragazzi. A 20 anni l'unico mio investimento è stato il fondo pensione di categoria che infatti ricopre quasi la metà di tutto il capitale investito e questo potrebbe essere, diciamo, un fattore da andare ad analizzare adesso. Non considero la mia casa come un asset perché ci vivo e non ho intenzione di cambiarla o venderla. E questa considerazione è quella che faccio anch'io nei miei asset, non ho messo la mia casa. Ho recentemente cambiato lavoro e attualmente faccio responsabile logistica per un'azienda di riparazioni navali. Visto il lavoro da responsabile mi verrebbe da dire che abbia un buon stipendio, non ha figli e infatti riesce a investire una media di 1000€ al mese che direi è assolutamente un importo rilevante. I miei obiettivi Breve e medio termine, abbastanza semplice, è riuscire ad avere un flusso di cedole che mi paghi le bollette, e dovrebbe esserci già arrivato più o meno, ok? E più avanti magari anche il mutuo. Nel lungo termine so che sganciarsi dal lavoro è complicato ma mi piacerebbe non avere problemi a valutare proposte lavorativi che impignino meno la mia giornata, anche un lavoro part time e che siano meno stressanti. Una soluzione assolutamente condivisibile mi viene da dire. Anche fare un part time poco stressante, impegnarsi magari 4-5 ore al giorno ci lascerebbe tanto tempo a disposizione per i nostri hobby, per la nostra famiglia, per la coltivazione delle amicizie, insomma. Spesso mi chiedo se riuscirò a continuare a fare questo lavoro per i prossimi 25 anni e questo orizzonte temporale così ampio mi preoccupa e poi mi lascia il file. Allora, stavo pensando adesso, orizzonte temporale di 25 anni effettivamente sul discorso lavorativo sembra veramente tantissimo anche perché l'idea di lavorare oltre i 60 anni è abbastanza preoccupante diciamo perché a 60 anni avremo ancora la freschezza mentale per tenere i ritmi attuali bel punto di domanda e soprattutto quando andremo in pensione a 65, 67 anni, 70, quello che sarà quanto tempo avremo davanti per goderci poi la nostra pensione? Molto molto poco direi godercela in freschezza, in freschezza mentale, in freschezza fisica relativa insomma perché chiaramente a 40 anni hai una certa fisicità a 70 ne avrai un'altra a 20 ce l'hai ancora diversa cioè già io sento un bel passaggio da quando avevo 30-35 anni ad adesso insomma dal punto di vista fisico, questo parlando non dal punto di vista mentale anche se insomma la psicologia chiaramente è cambiata nel corso del tempo ma andiamo a vedere un pochino il portafoglio perché a 25 anni stavo pensando da lavorare sembrano tanti, 25 anni per investire mi sembra un orizzonte temporale adatto per chi vuole investire in azioni insomma torniamo al portafoglio saltando queste considerazioni portafoglio azionario, mette anche gli importi insomma sono tante azioni, tante singole azioni con importi mediamente piccoli si va dai 265 euro ad esempio di Gladstone Land che è un real estate ai 2426 di A2A allora abbiamo un pochino di azioni italiane ci stanno sempre bene Inter San Paolo A2A Azimut Enel BFF Eni Eiren Equita Group e SNAM allora sono praticamente tante azioni che ho in portafoglio quindi non potrei dire che fanno schifo anzi sono mediamente buone aziende che distribuiscono dividendi elevati e anche dividendi mediamente in crescita il vantaggio delle azioni italiane è chiaramente che la tassazione è solo del 26% così poi come per quelle britanniche gli importi insomma non sono particolarmente elevati mi sembra ben diversificato anche insomma come come settori di appartenenza ci sono le utilities qualche banca energetico insomma quelli a dividendi più elevati e sono comunque anche azioni che mediamente hanno guadagnato abbastanza bene nel lungo termine passando alle altre azioni vediamo un pochino ci sono un po' di americane e c'è qualcosina d'altro allora abbiamo Intel poi scorrendo abbiamo Rio Tinto Stellus Capital Medical Properties Main Street Gladstone Land Vale che è materiale di base brasiliana Omega Healthcare Ares Capital AGNC British American Tobacco Verizon Realty Income S.L. Green Altria Philip Morris e Coca-Cola allora ci sono grandissimi classici Dividend Aristocrat Dividend Kings come Coca-Cola come Altria come Realty Income abbiamo ottimi dividendi come British American Tobacco Verizon Main Street abbiamo le BDC che cercano di aumentare probabilmente il dividendo anche a fronte di capitale azionario abbastanza stabile come abbiamo visto Stellus come Main Street anche Ares Capital mi sembra sia una BDC abbiamo molti real estate anche qui per la stabilità dei dividendi probabilmente e va benissimo perché alla fine avere delle real estate in dei REIT in portafoglio è come avere piccolissimi appartamenti o comunque immobili o anche terreni dati in affitto poi ci sono queste aziende specializzate che ci pensano loro a gestire tutto molto molto tranquillo in questo caso abbiamo anche alcune aziende che purtroppo stanno andando non particolarmente bene ma chiaramente in un portafoglio così diversificato è impossibile fare 100% bene insomma andare a scegliere tutte le azioni migliori ad esempio Medical Properties non sta andando benissimo a GNC anche mi sembra che non stia performando molto bene serve ad andare a verificare comunque si tratta mediamente anche di importi abbastanza contenuti Stellus Capital devo dire che non la conoscevo dopo lo andremo a vedere volendo volendo si potrebbe andare a semplificare mettendo di più su ETF ETF ce ne sono sono 5 un Vanguard Fuzzi All World un Vanguard Fuzzi Emerging Market probabilmente per andare a sovrappesare i mercati emergenti tant'è che abbiamo anche l'HSBC MSI Cina un Invesco Morningstar così non si capisce molto bene dovrebbe essere quello sulle MLP che ha un dividendo molto alto e dopo lo andremo ad analizzare e poi abbiamo l'ETF obbligazionario JP Morgan sulle mercati emergenti in dollari con un peso un pochino più alto di circa 4000 euro in questo caso mi verrebbe da dire che si punta sicuramente sui dividendi con l'Ishare obbligazionario mercati emergenti si punta sui dividendi con l'Invesco sulle MLP e si punta invece sulla crescita con gli altri tre ETF su Cina mercati emergenti e All World allora guardando soltanto gli ETF verrebbe da dire che i mercati emergenti sono sovrappesati in realtà bisogna andare a ricomprendere anche le singole azioni che andranno a diversificare ricomprendendo comunque in particolar modo Italia e Stati Uniti in particolar modo poi c'è anche ad esempio British American Tobacco che è britannico c'è Vali che è brasiliano e poi abbiamo il lato obbligazionario abbastanza pesato perché più o meno si equivale con quello azionario come importo investito abbiamo tre bot che scadono ad agosto settembre novembre del 2024 per circa 25.000 euro e poi un BTP un BTP valore che scade a ottobre 2028 probabilmente è quello collocato ottobre dell'anno scorso 2.000 euro allora i bot 25.000 euro che scadono tutti a novembre 2024 direi che potrebbero essere utilizzati anzi saranno sicuramente utilizzati come fondo di emergenza ed eventualmente come liquidità per andare a sfruttare eventuali situazioni favorevoli di mercato lato azionario poi c'è un'ulteriore liquidità di 5.600 euro quindi diciamo complessivamente circa 30.000 euro in azionario 30.000 euro in obbligazionario oltre 5.000 euro in liquidità e poi fondo pensione 68.000 euro allora fondo pensione 68.000 euro è veramente tanto se rapportato al resto degli investimenti non dimentichiamo che una volta andato una volta raggiunti i requisiti pensionistici superato una determinata soglia che si aggira attualmente attorno ai 75-80.000 euro circa saremo costretti a convertire in rendita almeno il 50% del montante questo così come formazione aggiuntiva a me piace l'idea di poter ritirare tutto subito e poi con i soldi faccio io un pochino quello che voglio eventualmente così la butto lì come idea c'è comunque la possibilità di andare a ritirare il 30% del capitale senza dare motivazioni specifiche in questo caso sarebbe un importo di circa 20.000 euro e potremmo andare ad abbassare il fondo pensione a 50.000 euro così un'idea però non dimentichiamo che il fondo pensione è molto interessante visti i benefici fiscali che porta con sé allora complessivamente cosa dire un portafoglio sicuramente non votato totalmente ai dividendi avremo questo buffer di circa 20.000 euro dal fondo pensione che volendo si potrebbe utilizzare ritirando il 20% per andare a incrementare visto che l'obiettivo è quello di avere una rendita per andare a incrementare strumenti a distribuzione magari andare a incrementare specialmente il lato etf mi verrebbe da dire poi sulla scelta degli etf io prediligo insomma sempre i mercati sviluppati anche se un po' di mercati emergenti ci possono stare gli etf scelti abbiamo visto i due hanno sicuramente dividendi elevati gli altri hanno dividendi un pochino più contenuti l'allworld e i mercati emergenti tuttavia potrebbero avere una crescita nel tempo dei dividendi un pochino più alto andiamo infatti a vedere l'MLP che ha un dividend yield molto elevato ma ve lo faccio vedere ci sono anche alcune opportunità o meglio c'erano adesso sono un pochino rientrati l'opportunità lato obbligazionario però visto l'orizzonte temporale così lungo sicuramente si potrebbe andare a incrementare un po' l'obbligazionario nel caso i tassi magari superassero di nuovo il 4% anche sui titoli di stato però insomma lato azioni singole invece mi sembra ben diversificato insomma un numero adeguato di azioni mi sembrano così una prima occhiata 20-25 che è proprio il minimo per dire il portafoglio diversificato e insomma in futuro così se devo dare la mia opinione punterei su etf a distribuzione proprio per andare a diversificare in maniera abbastanza semplice e senza farsi troppi troppi sbattimentali insomma questa è la mia opinione personale andando a vedere così alcune cose volevo andare a vedere Stellus Capital e l'Invesco Morningstar Energy Infrastructure le MLP il ticker dell'etf è MLPD lo vedete qui è un etf sulle infrastrutture energetiche ha un dividend yield molto elevato spesso ha superato anche il 10% adesso siamo a circa l'8,95 dividendi esclusi tuttavia è stato abbastanza deludente anche se dal 2020 ad oggi ha recuperato abbastanza bene anche a fronte dell'aumento del prezzo del petrolio ad esempio che ha portato chiaramente anche l'infrastruttura a salire di quotazione se noi lo guardiamo in 10 anni che è il valore massimo è sotto del 50% ok i dividendi alti ma insomma il valore è sceso abbastanza e i dividendi come sono andati questo qui non è una critica a Lorenzo perché poi ci ha messo 1000 euro non è un importo particolarmente rilevante ma è così per dire cosa vado a vedere quando guardo un etf nel 2014 i dividendi erano di 1,16 euro per il primo trimestre adesso sono 83 centesimi a giugno 1,27 adesso sono 0,88 terzo trimestre erano 1,37 adesso sono 0,93 quarto trimestre erano 1,19 e adesso sono 0,99 insomma dividendi che sono anch'essi scesi nel tempo sono scesi in particolare fino al 2020 per poi recuperare solo in parte e non totalmente rispetto al 2014 un'azione che non conoscevo Estellus Capital da quello che ho capito è una BDC abbastanza simile a Main Street secondo me come andamento del titolo azionario ha avuto un calo bruschissimo nel 2020 per poi recuperare nel periodo massimo considerato che sono circa 12 anni l'azione è rimasta praticamente ferma a meno 10% ma questa è un po' la caratteristica di tante BDC che sono molto generose sotto il fronte dei dividendi e sono sostanzialmente stabili come prezzo perché distribuiscono un pochino tutti gli utili il dividend yield di questa azione è sempre stato molto elevato possiamo vedere questa qui è la schermata di Seeking Alpha alla fine dell'anno nel 2013 il dividend yield era del 27 nel 2014 del 32 poi del 33 del 23% del 19% e adesso del 12% come è aumentato o diminuito il dividendo nel corso del tempo possiamo dire che dal 2013 fino al 2019 è stato sostanzialmente stabile poi c'è stato un calo abbastanza borosco 2020-2021 per poi risalire di quota nel 2022 e 2023 periodi durante il quale hanno quasi recuperato l'ammanco che c'era stato nei due anni precedenti nel 2020-2021 sarebbe da andare ad analizzare adesso è difficile dire così a prima occhiata è un'ottima azione è una cattiva azione bisogna capire effettivamente che lavoro fanno per vedere effettivamente se l'azienda è buona magari qualcuno di voi la conosce può condividere la propria opinione nei commenti questo insomma per dare un'idea su un ETF molto particolare come LPD e la valutazione anche di azioni magari ad alto dividendo come Stellus Capital che tutto sommato posso dire che sta facendo il suo ok non è cresciuta per niente è rimasta stabile la quotazione nell'arco di 12 anni ma il dividendo anch'esso è rimasto abbastanza costante nel corso del tempo e sempre superiore al 10% della propria quotazione direi che con l'analisi di oggi abbiamo finito spero di avere dato insomma indicazioni utili anche per Lorenzo poi chiaramente non è che sono consigli da andare a seguire sono le mie personali opinioni vi invito a condividere le vostre opinioni su questo portafoglio e su quello che magari potrebbe fare secondo voi Lorenzo per migliorare la gestione dei propri risparmi un minestrone di tante opinioni che saranno tutte diverse magari sarà comunque utile avere tanti spunti differenti per prendere poi decisioni migliori like al video per supportare il canale iscrivetevi se non l'avete ancora fatto un saluto a tutti da Lorenzo a presto e ciao ciao